Adesso parliamo di Lando Buzanca Palermitano è figlio d'arte, proviene da una famiglia di attori del teatro dialettale siciliano, esordisce nel cinema negli anni 60, lavora con autori come Pietro Germi, Latuada, De Sica, Loi, disegna dei giovanotti meridionali, ottusi e spavaldi che le impongono l'attenzione del pubblico. Ma l'esordio arriva negli anni 70 con le bizzarre parodie di James Tonde e con Homo eroticus e la nascita dell'Erduzanca erotico si scatena in personaggi a forte tasso di erotismo che interpreta in chiave comico grottesca. Girerà dei veri e propri capolavori del trash come il merlo maschio dove afflitto da un'insana passione voyeuristica. Carattrista disegna dei veri e propri cliché lavorando sul corpo, sul volto e sulla voce. Ha inventato un personaggio vittima del suo tempo, il maschio maschilista che di fronte all'inconvente emancipazione femminile si trova in difficoltà e raccontandola in questo momento di rivoluzione ottiene un grande successo soprattutto tra un pubblico prevalentemente femminile. Probabilmente perché le donne vi riconoscono i tuoi personaggi, i fidanzati, i mariti, gli amanti. Dalla Sicilia a Roma con 500 lire, ho letto una volta in un'intervista, vero? Con 500 lire, un pacchetto di sigarette, una scatola di fiammifero, un cappotto, una camicia, una giacca, una cravatta, un paio di calzine e un paio di mutande e basta. E un paio di scarpe naturalmente. A che edà? Avevo 17 anni, sono rimasto fino a 19 anni e qualche mese. Si conclude così la prima puntata di Backstage, ma non finisce qui. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Adesso giochiamo un po' con gli spettatori in sala e vediamo come se la cavano alle prese con gag e con i proverbi. Chi va con lo zoppo? Arriva dopo. Ti chiami? Emanuela. I panni sporchi? A 90 gradi. Il lupo perde il pelo? In autunno. Il buongiorno si vede da? Gira la ruota. Scusate, un proverbio. Chi non muore? Highlander. Si chiama? Io. Elisabetta. E chi non dorme non piglia? Sonniferi. L'ospite è come il pesce. Dopo tre giorni? Nuota. Chomu Sumeshi, interprete di classici di prosa ma anche di musical di successo. Ma chi è in realtà Chomu Sumeshi? Ma chi non lo so neppure io guardo perché ho fatto tanti di quei personaggi nella mia vita che non so più, cioè a casa dico guardo tante volte le fotografie, le cose che ho, dico ma io a chi assomiglio, a quale personaggio assomiglio? Ma un po' a tutti perché io sono molto osservatore, tutto ciò che vedo per la strada è in dubbio. Continuiamo il nostro percorso all'interno della segna teatrale Un palcoscenico per l'arte che è in corso di svolgimento al Cineteatro Aurora di Sant'Agata Militello. Mercoledì scorso è andata in scena Tutto per bene di Luigi Pirandello, regia di Yuri Ferrini, interprete principale il grande Gianrico Tedeschi, affiancato sul palcoscenico dalla moglie Marianella Laszlo e dalla figlia Sveva. Una menzione a parte merita anche il bravo doppiatore Pietro Biondi. Entriamo in sala. La commedia Tutto per bene si interna su una rivelazione, la scoperta tardiva e post-mortem da parte del protagonista del tradimento della moglie, ma ancora una volta come spesso accade in Pirandello è un protesto per parlare d'altro, per esplorare l'animo umano, le sue contraddizioni, le sue molte maschere. Gravi tutti gli attori che hanno personalizzato le interpretazioni, attingendo la loro personale esperienza, creatività, professionalità. Si conclude qui questo terzo appuntamento con backstage, il dietro le quinte della rassegna teatrale o un palcoscenico per l'arte. Per altre curiosità vi aspetto alla prossima puntata. Arrivederci. Inizieranno con queste poesie, alcune appunto sono scritte da Danino. Iniziamo con Un miracolo di vita. Un giorno dio, chino di pensieri, si rispicchiavo, si affacciò in talo barcone di lucello, e tali hanno con su occhio mascio, scario lì da sopra, che cose in talo mondo non quattraono come il due abbia voluto. Sidiato, ogni tanto già toccava di sidiare, sino, chiamau l'Arcancelo Gabriele, un posteri di turno, e ci detti, una raccomandata va Madonna, e un telegramma di San Giuseppi. Scininta terra, ci rissi, e porta sto messaggio a un faligname di nomi Peppi, e a Maria, sovoglieri. E' una cosa troppo segreta, mi raccomando. Subito, signor Dio, e cosa fatta? Partiu, impecchiata all'Arcancelo, e in tala ritta, in tala fatta, scansano stiti, e ammuttano l'aria, arrivau a destinazioni, attirau sopra casa di tu sposi. Ave Maria, grazia plena. Partite per Betlemme, un grande evento avverrà, questo è il volere di Dio. Custernati e confusi, i due sposi si guardarono dall'occhi, e con tanto amore e obbedienza si fissero sto viaggio, ammugghiaro quattro giusci e si miero. Un tanastadduzza si compì un portento, un miracolo di vita, nasce un picceriddo, povero con canna, con una facciuzza tunna che o doci di la manna, con l'occhi su manciava la magia, e il pace si priava e si squaggiava. un miracolo di vita. brava Cinzia, ho chiesto altra lirica, sempre finito la rosa, un scapolato, Cinzia Scagliola. Un todamusu da casa di Menanno, un tanagnoni, appennuto a un chiogo arrugginuto, arraccamato da camola e di fulini, un scapolaro mecuta la sua storia. era nioro di colore e di raggia, perché pensava che i vittani avessero finuto di torciere la schiena, mentre ancora si appresentaono a domenica davanti ai paccioni che ha coppolo a mano e i panarachini. Cisarò, Carunia, Sanfrareddo, Tusa, Mischetta, Castituzzo, nottati e passati alla campia, con una coperta di stitti e un friscaletto di canna che intona canti di vita e lastimi di morti. Veli niori, coppoli storti, baci a mano, riverenzi, occhi saitti, testi che si calano a cumanno, stissi le pupara, stissi le popi. E partono, partono i treni chini di spiranzi, con un cori caricato di vileno, surfarara, piscaturi, carritteri, tornata a casa, non si piglia chi mano l'uccello, s'ancora di nema mucciata dal re rossipario, non batteva uno petto, si continua sempre lo stisso il rosario. Brava, brava veramente con questa bella lirica, oltre a Zeus che è stato mio assistente, regista te. Ho detto, negli anni sessanta, molti siamo andati in fuga dalla Sicilia cercando il successo altrove. Adesso sarebbe necessario che si ritornasse invece in Sicilia ad alzare il livello, la qualità della cultura, del teatro. Questa serata che voi avete offerto da sera è veramente straordinaria. brava a te Cinzia che l'hai fatto, è una bella serata perché voi in questo happening siete riusciti a portare sulla scena le cose più belle della nostra Sicilia e anche dei temi coraggiosi. ragazzi, lo so che tu sei coraggiosa, che ti ascolti, ti segui da tanto tempo, sei tenace, insomma, ma tu resisti e fai bene a resistere anche perché io ho detto sempre, se ce l'ho fatta io, che nel 59 sono partito da questo paesino di Capodorlando per arrivare poi a soffrire la loro grande.